Per questa emergenza è stata attivata la CROSS. CROSS vuol dire Centrale Remota Operazione di Soccorso Sanitario. In caso di necessità, ovvero se una regione dovesse somministrare cure a un numero di pazienti troppo alto rispetto alle possibilità, la CROSS trova posti letto adatti a quel tipo di paziente in tutte le altre regioni e trova anche i vettori per trasportare i pazienti con adeguata assistenza, ovvero ambulanze medicalizzate e elicotteri 118. Con questo sistema nessuna regione è sola, perché in ogni situazione la regione colpita può contare sull'aiuto di tutte le altre.